Un avvocato divorzista Chiedo che la corte disponga per un assegno divorzile di 50.000 euro 5 a 3? Ma è marco? Un consulente matrimoniale Mentire è la tomba del matrimonio Si è fatto l'abbonamento al centro massaggi Thai Per la sciatica Porto Due mondi lontani Firmi la separazione oppure ci vediamo in tribunale? Ma lei, stronza di suo, ha fatto un master? Ho fatto un master, sì E qualcosa in comune E direttamente dall'estate della nostra infanzia Stefano Parisi Il ciccio Dove lo tenevi nascosto il tuo amico? Nell'album dei ricordi Questa è una iena Questa non è la ragazzina che ti piaceva quando c'era i 10 anni Comunque mio figlio non ha bisogno di aiuto Meno che mai del tuo La scuola lo prendono per il culo E a te ti massacravano Parti, parti, vi Carlo mi vuole tocchiare Chi di voi due è Carlo? Io Ma non sai che sei vivo come è polio? Io ti faccio radiare dall'albo Hai capito? Poli opposti Suona carino come il titolo Si può sapere che cosa vuoi da me Contento adesso? Pensavo meglio Ma dai che si vede lontano un chilometro che sei innamorato Non dire quella parola Luca Argentero Sara Felberbaum Stavo pensando che magari noi due per pranzo potremmo Scordatela Poli opposti Poli opposti